È un'emergenza e sottolinea come il Governo abbia mentito ai cittadini di questo Paese rispetto alla reale situazione per quanto riguarda la sicurezza dei nostri cittadini stessi. In più interventi, il Presidente del Consiglio in primis, il Ministro Gentiloni e il Ministro Alfano hanno sottolineato come non ci fosse alcun tipo di pericolo di infiltrazione terroristica all'interno dei barconi. Oggi abbiamo la dimostrazione, purtroppo e drammaticamente, che è l'esatto contrario. Oggi abbiamo la dimostrazione, purtroppo, che quanto ha detto la Lega e lo dice da mesi per quanto riguarda il rischio di infiltrazioni terroristiche all'interno di questi barconi è vero. Ci hanno trattato come se fossimo degli sciacalli, dei razzisti, degli xenofobi quando invece loro stanno giocando con la pelle dei nostri cittadini fregandosene della sicurezza nazionale. Per questo oggi noi entriamo all'interno di questo comando dei carabinieri per presentare un esposto contro il Presidente del Consiglio Renzi, il Ministro Alfano e il Ministro Gentiloni affinché si possa avviare un'indagine se hanno responsabilità per quanto riguarda la mancata sicurezza sul territorio nazionale. Mi sembra evidente una politica basata sul favoreggiamento dell'arrivo di immigrati clandestini sul territorio nazionale con Mare Nostrum, dopo chiamato Triton, ma nella sostanza è la stessa cosa. Più volte abbiamo detto che ciò non poteva essere una risposta all'invasione incontrollata del nostro paese. Mi sembra evidente i mancati controlli messi in atto da questo governo. Non a caso questa persona arrivata a febbraio, così almeno ci dicono le notizie di stampa, perché oggi, malgrado le richieste della Lega, il Presidente del Consiglio non verrà in aula a riferire su quanto sta avvenendo nel nostro paese. Mi sembra evidente che non si è andato a fare i controlli necessari per sapere che è presente sul territorio nazionale. Siamo nella totale anarchia, cioè il governo non sa chi c'è, non sa da dove arrivano queste persone, non sanno se sono persone che possono essere pericolose per l'incolumità dei nostri cittadini. È chiaro che la chiusura delle frontiere vuol dire un maggior controllo, una maggiore sicurezza per i nostri cittadini. I casi di emergenza bisogna operare con misure d'emergenza, perché la nostra priorità è garantire la sicurezza dei cittadini di questo paese, non accontentare qualche burocratio europeo che dice tutti aperti, tutti felici, tutti uniti, perché il problema dopo se succedesse qualcosa sul territorio nazionale qualcuno la responsabilità ce l'ha e ce l'avrà. Questo comunque è l'esposto che oggi presentiamo, questa è una copia, verrà firmato dai parlamentari della Lega Nord, dopodiché ci auguriamo che la magistratura possa verificare se quanto abbiamo sottolineato corrisponde al vero, ovviamente e accerti le responsabilità, che corrisponde al vero non c'è dubbio perché abbiamo citato dei fatti specifici, ma anche accerti le responsabilità per capire se esiste un'azione colpevole da parte di questo governo.